andiamo a vedere un gps per pedinamenti gps eccolo qui dimensioni molto contenute come un palmo di una mano calamitato autonomia della batteria circa 50 giorni abbiamo anche l'ascolta ambientale dal foro del microfono ha una potente calamita e ora vi faccio vedere come tiene la calamita tenete presente che apre un cassetto di questo mobiletto stile militare che pesa tantissimo gps ha un'autonomia di 50 giorni